In attesa del suono della campana che ci sarà in Sicilia e anche a Caltanissetta per tutte le scuole, di ogni ordine il grado il 16 settembre sono stati resi noti i trasferimenti e le nuove assegnazioni dei dirigenti scolastici. Per Caltanissetta la Lombardo Radice arriverà Bernardina Ginevra, dirigente da molti anni della Dominali, scuola che sarà diretta da Francesca D'Asaro. Mario Cassetti andrà alla Carducci di San Cataldo, l'assessore alla cultura del comune di Caltanissetta Laura Zurli è stata trasferita da Mussomeri alla Filippo Cordova di Caltanissetta per un preside che va in quiescenza Pietro Scalia del magistrale Alessandro Manzoni. Altri tre hanno chiesto di ottenuto il prolungamento Enzo Cosimano di Caltanissetta, Giuseppe Orlando e Salvatore Giudice di Gela. Le prime riunioni organizzative inizieranno nelle scuole dell'infanzia, il 2 settembre sarà la volta della programmazione e dell'aggiornamento. Le vacanze natarizie saranno il 23 dicembre e termineranno il 4 giurnaio, mentre quelle pasquali sono previste dal 17 al 22 aprile 2014. Vacanze anche per la commemorazione dei defunti, cioè il 2 novembre, e per la festa dell'autonomia siciliana il 15 maggio. Secondo quando previsto dall'autonomia scolastica i consigli di circolo potranno decidere di modificare la data di inizio delle lezioni, dovranno essere comunque 200 le ore di lezione previste.